Parliamo di PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si apre un periodo molto importante per la ripresa del nostro Paese, un periodo che va dal 2021 al 2026, grazie all'arrivo di 230 miliardi messi a disposizione dall'Unione Europea. Il più grande piano di investimenti dal dopoguerra oggi, praticamente un secondo piano Marshall. Oggi siamo qui a parlarne con Andrea Predanna, Head of Business Development del gruppo Tufitalia. Andrea, secondo te qual è il contributo che il settore TIC, Testing, Inspection and Certification, può offrire alle aziende che si approcciano a questo piano? Perché un'azienda dovrebbe rivolgersi ad un ente di certificazione? Nel contesto delle PNRR, una delle parole fondamentali è misura, che si declina nella misurabilità delle iniziative e nella loro misurazione. Nel corso dei prossimi anni, gli enti di certificazione rivestiranno un ruolo sempre più importante, per tre motivi fondamentali. Il primo, perché possono assicurare che i fondi europei vengano spesi coerentemente e immediatamente. Il secondo, perché possono verificare che le iniziative vengono eseguite secondo le norme, le regole e i valori condivisi. E in terzo luogo, perché le aziende che prenderanno parte al PNRR, grazie all'attività di ispezione, certificazione e test di laboratorio, potranno essere qualificate. Il PNRR si sviluppa in sei missioni, ognuna delle quali legate a delle tematiche strutturali di intervento. Andando nello specifico, perché un'azienda dovrebbe rivolgersi a Tufitalia? Guarda Sabrina, il nostro gruppo può supportare le aziende in tutte e sei le missioni. Ti farò qualche esempio. Nel contesto della transizione ecologica, possiamo supportare le aziende con prove di laboratorio, tarature degli strumenti e certificazione in ambito ambientale ed energetico. Va anche ricordato che il piano mette a disposizione circa 3 miliardi di euro in ambito di idrogeno. In questo contesto, il gruppo può supportare le aziende nell'identificare le specifiche tecniche per la sua applicazione lungo tutta la filiera energetica. Un altro esempio è rappresentato dall'industria 4.0, dove il piano prevede circa 14 miliardi di investimenti. In questo ambito, noi possiamo supportare le aziende nell'identificare le specifiche tecniche e requisiti per ottenere benefici fiscali e verificarne la loro applicazione lungo la catena di produzione. Nell'ambito poi della sicurezza alimentare, dove gli interessi di tutela e salute si intrecciano con quelli di sostenibilità ambientale, possiamo offrire test di sicurezza sugli alimenti e le certificazioni di sistema per la rintracciabilità degli alimenti lungo tutta la filiera agroalimentare. Un altro ambito di applicazione dove possiamo supportare le aziende è rappresentato dalle grandi opere infrastrutturali e dalla mobilità sostenibile. In questo ambito, possiamo supportare le aziende attraverso controlli non distruttivi, ispezioni periodiche e certificazione. Infine, a corollario di tutte e sei le missioni, rivesterà molta importanza la formazione e la certificazione delle figure professionali che non rientrano in albi specifici. Grazie Andrea. Quindi appare evidente che in ognuna delle sei missioni Tuffitalia è in grado di supportare le aziende nell'approcciarsi a questo piano. Grazie. 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 Grazie.